e poi in tutto questo cos'è la bike life? è uno stile di vita, il nostro modo di vivere bike life non è solo amicizia, è condivisione, rispetto, stima per quello che facciamo, aiutarsi un l'altro e per quanto possiate giudicarci, chiamarci pazzi o criminali, noi facciamo solo quello che ci piace, potete provare a toglierci tutto ma questo non ce lo toglierete mai, questo è il nostro vivere, la nostra felicità, la nostra voce che vi grida che noi siamo qui e come disse qualcuno non capirete mai quello che facciamo finché non lo farete, ma non lo farete mai, quindi non potrete mai capirci. Michi, indovinate chi stiamo perdendo il treno, bella, treno preso per miracolo Milano centrale, let's go, arrivati, si inizia già con le wheelie, swerve ed è subito bike life per Milano, è passata tutta la mattina, adesso stiamo andando verso il ritrovo male male, tutto bene no, male male, tutto bene no, male male, male male, male male grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti let's go San Siro grazie a tutti 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 Grazie Grazie